A quanto pare ragazzi, in questo universo abbiamo l'esclusiva mondiale dello stivale perché Skrull e Signore, la serie creata da Justin Rowland e Ron Harmon approderà in Italia con la sua versione fisica, bravi! Oggi vi porto l'unboxing della prima stagione della serie tv Rick and Morty Wabadawadawadaw... come? Sigla! Mi sono trasformato in un cetriolo! Boom! Sono un cetriolo! CETRIOLO REEE! Eccoci qua ragazzi, l'inquadratura c'è, il tavolo c'è, le mie mani ci sono Ecco, quella a sinistra si muove un po' strano, sono più strambe di quella pubblicità che ho visto Ma è quello il nuovo sostituto del burro? Sì, esatto! Ma è vero che è la metà delle calorie del burro e la margarina con il suo meraviglioso sapore? Prenditi il tuo! Sono scemo! Oggi ho il piacere di presentarvi l'unboxing della prima stagione di niente po' po' di meno che Rick and Morty E fa rima con la serie campione di ascolti vincitrice di due enni Sarà disponibile dal 5 settembre in tutti gli store Mmm, cosa abbiamo qua? Oddio, Rick Sanchez è lo scienziato più figo dell'universo In riassuntino, fanno qua Mmm, poi abbiamo Beth e Jerry Che litigano mentre la figlia Summer cerca di ignorarli come sempre perché, sapete, ha 16 anni Ho 17 Secondo me il personaggio di Summer è un personaggio che ha tanto da dare ancora in questa serie Sotto c'è scritto... Io non ci vedo ragazzi Package Design Non ci vedo Genere animazione, un po' di specificazioni Dolby 2.0 anche in italiano, bravi Mi piace Mi piace Sapete il voto qual è? Vietato ai minori di 14 Ah bello Dalla parte davanti del DVD escono i due dal portale e dal retro si vede la loro schiena Andiamo a noi Dai, likes Impegnati Se no, se no questi se ne accorgono che non li sai fare gli unboxing Ne hai già visti a centinaia, dai Ma come fanno, come fanno ad aprirle le confezioni? Ok, fai un respiro Con grazia ed eleganza Coltellino da burro strambo in mano E vada all'angolazione delle dita Sta tutto lì il segreto Oh my god Ragazzi, i materiali sono molto feigli Wow Guardate qua, l'ID protector di Rick and Morty Exclusive Non lo so, ci metterò il mio banco, Matt Abbiamo il disco 1 della stagione 1 Con sopra il disegno della bella navicella di Rick Allora Rick Sanchez è uno scienziato pazzo Morty nel nipote 14enne di Rick Sono delle verevi descrizioni dei personaggi principali E poi Jerry Il classico uomo medio che solo in determinate occasioni riesce a farsi valere Vero come il sole E finiamo con i due mini posterini Che successivamente staccherò perché sono scemo Alla fine abbiamo il disco 2 Tanta roba ragazzi Ma cosa ci troviamo in questi due dischi? La prima stagione integrale, ovviamente Oltre alla geniale e comicità unica che caratterizza questa serie Abbiamo 200 minuti di contenuti extra Battute fantastiche di un copione che ti apre il cervello Altro che la comicità di striscia È lui o non è lui? Scusa Simon05 Perché nessuno sfugge alla genialità di Rick Sanchez Nemmeno gli Avengers Ci sono fantastici riferimenti alla cultura pop Bestiali ragazzi Bestiali E non alla Big Man Theory Ma alla Justin Roiland È un fottuto genio Vi prego date un Oscar a quell'uomo Che tra l'altro è lui a dare la voce anche a Morty Oltre a dare la voce a Rick Sanchez Bene accorgerete quando guarderete la serie in inglese Se mai lo farete E niente con questo bel po' di materiale Credo che saremmo a posto per un bel po' Visto che la quarta stagione è sempre più lontana purtroppo Il passato maggio mi ricordo che avevano annunciato Il rinnovo per 70 episodi Ma poi nulla Ma dai che scherzavo Eccoti il teaser trailer BANG Psicodelico vero? E fu amore forever E niente ragazzi È tutto per oggi Ricordate che è già possibile prenotare i DVD e Blu-ray su Amazon I link li trovate in descrizione A questa prima stagione seguirà la seconda Che uscirà il 19 settembre E la terza sarà acquistabile a partire dal 29 settembre Bene Ciao Io vado Vado a spolverare la mia Play 4 Abbiamo del lavoro da fare